Ciao, piacerebbe anche a te costruirti delle rendite extra mensili senza troppo impegno e senza avere chissà quali competenze? Molte altre persone l'hanno già fatto. Perché non lo fai anche tu? Mi raccomando, clicca sul link che trovi nella descrizione del video, iscriviti al mio canale dedicato e vedrai tutto il percorso che sto facendo in questa associazione. Mi raccomando, per qualsiasi cosa sono a tua disposizione. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Guadagnare Online con le criptovalute. Oggi andremo a vedere un nuovo airdrop che ci fa guadagnare 20 dollari più 10 dollari per ogni ref. Però prima vi ricordo di effettuare l'iscrizione al canale YouTube e l'iscrizione al canale Telegram cliccando su questo pulsantino qui per rimanere sempre aggiornato con tutte le novità. Ma andiamo all'argomento della serata. Allora, innanzitutto è fondamentale avere Telegram. Ragazzi, se siete dei miei seguaci del canale, invito tutti a scaricarvi Telegram perché è fondamentale. Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa. Da poco tempo sto iniziando appunto a proporvi degli airdrop. Cosa sono gli airdrop? Sono praticamente delle sponsorizzazioni delle varie ICO, quindi le nuove monete che stanno prendendo piede e che verranno listate sugli exchange. Quindi, dovendo acquisire popolarità, questi siti ci chiedono di aiutarli a crescere. Quindi di conseguenza chiederanno l'accesso al gruppo Telegram, di seguirli su Twitter, di retweetare i loro articoli e via dicendo. Sono tutte delle piccole operazioni pubblicitarie che questi siti utilizzano appunto per farsi conoscere. In cambio di questi piccoli compiti ci viene dato un rimborso a livello di denaro o meglio a livello di token. Quindi ci verranno quando finirà l'airdrop, quindi ogni airdrop ha una durata differente, quando finirà l'airdrop vengono distribuiti a tutti gli utenti i token che potranno appunto convertirli e ritirarli e farli diventare appunto dei soldi. Allora, andiamo su Telegram. Io vado a cliccare praticamente sul link inviato dal mio spacciatore di airdrop, effetto la registrazione, quindi SignUp, che è già qui, metto la mail, nome e cognome, password, ripeto la password, ho letto, accetto, questo non lo clicco, WCESC e procediamo con la registrazione salvo i dati per il login e mi dice che praticamente mi hanno inviato un link di attivazione via mail quindi attendo questo link per procedere, il link è arrivato, ok, quindi confermo la mia email e mi dice che appunto l'account è confermato quindi posso effettuare il login quindi inserisco i miei dati ok, una volta arrivati su questa pagina andiamo a cliccare su questo login qui che dice praticamente che l'account non è ancora verificato quindi devo completare questi tre compiti quindi andiamo a mettere le informazioni personali ok ok benissimo dopo aver inserito i nostri dati personali clicchiamo su submit andiamo a cliccare poi su continua ci chiede delle informazioni più dettagliate a quanto pare traduciamo in italiano che è più semplice prometto acquisto di token professione fonte dei fondi mettiamo reddito attività professionale sono il beneficiario dei fondi si se hai una persona politicamente esposta no hai un alto livello militare no quindi sottoscrivo allora selezioniamo questo importo dobbiamo caricare una di queste cose ok io caricherò un estratto conto allora ho caricato solo la parte alta dell'estratto conto con i miei dati quindi non ho caricato tutto l'estratto conto quindi sono andato a ritagliare dal pdf solo la parte dell'intestazione quindi per non condividere ovviamente tutti i miei dati personali dopo di che clicchiamo ancora su sottoscrivi ok dice che ci vogliono altri 5 minuti hai aggiunto correttamente le informazioni vuoi continuare? si no facciamolo subito quindi continua quindi adesso dovremmo caricare i nostri documenti questi sono i passaggi da fare allora quindi ci chiede una foto della parte interiore della carta di identità la parte posteriore della carta di identità poi come terzo passo prendi un documento e scrivi semplicemente valor ok quindi dobbiamo fare una foto con un foglio sul quale avremmo scritto semplicemente valor la data odierna e gli altri numeri procediamo quindi vi invito ad avere pazienza perché qui c'è un mercato molto floreo per guadagnare un po' di soldini si tratta di pochi soldini ma si tratta anche di banali procedure la cosa più frequente è sicuramente la verifica dei documenti quindi io vi invito, vi do un suggerimento fate una scansione fronte e retro dei vostri documenti ve la tenete nel desktop in modo tale che nel momento in cui verranno chiesti voi ce li avete già lì pronti da caricare mi dice che non ha trovato la webcam quindi provo a copiare questo indirizzo e vediamo dove ci porta ok niente praticamente siccome sto registrando questo video dovrei avere accesso alla webcam per poter procedere quindi di conseguenza devo interrompere un attimino il video e procedo e poi ci vediamo tra poco allora non potendo utilizzare la webcam ho semplicemente usato un lettore di QR code da smartphone l'ho puntato qui ho letto il lettore ho aperto il link e mi è stato richiesto di fare un primo video nel quale registravo il documento io ho fatto fronte e retro dopodiché ci viene richiesto di scrivere su un foglio valor la data odierna e tre numeri che vengono specificati da loro quindi cosa facciamo facciamo un video con questo foglio sotto il nostro mento e lo carichiamo successivamente ci chiede un terzo video nel quale andiamo a fare praticamente la registrazione del nostro volto tornando sul pc praticamente mi dice che il caricamento è adatto a buon fine che hanno ricevuto i documenti che verranno esaminati quindi andiamo a cliccare su fatto e ci ha chiesto di aumentare il livello di sicurezza il livello di sicurezza vediamo abilitiamo da qui allora una volta che siamo arrivati qui ci dice che dobbiamo scaricare google authenticator o per ios o per android io ce l'ho già in possesso sul cellulare quindi vado a semplicemente aprire la applicazione clicco su più poi leggi codice a barre quindi letto il codice a barre praticamente ci esce fuori un codice con il quale noi procedendo andiamo a mettere la password e il codice di identificazione e abilitiamo e abilitiamo e mi dice che appunto ho attivato correttamente clicco su fatto e il gioco è appunto fatto come vedete mi è arrivata la mail con la conferma che l'autenticazione in due fattori è stata attivata vediamo se c'è qualcos'altro da fare qua ho i dati ancora in attesa di verifica quindi si tratta solo di attendere vediamo su qua se c'è qualcosa c'è invita un amico quindi esce fuori il link per invitare i nostri amici e basta si tratta solo di attendere poi ovviamente vi aggiornerò io su tutto quanto bene con questo è tutto se il video ti è piaciuto lascia un like mi raccomando iscriviti al canale YouTube e al canale Telegram cliccando su questo pulsante ci vediamo alla prossima ciao allora innanzitutto faccio una piccola premessa da poco tempo sto iniziando appunto a proporvi degli airdrop cosa sono gli airdrop? sono praticamente delle sponsorizzazioni delle varie ICO quindi le nuove monete che stanno prendendo piede e che verranno listate sugli exchange quindi dovendo acquisire popolarità questi siti ci chiedono di come dire aiutarli a a crescere quindi di conseguenza chiederanno l'accesso al gruppo Telegram di seguirli su Twitter di retweetare i loro articoli e via dicendo sono tutte delle piccole operazioni diciamo pubblicitarie che questi siti utilizzano appunto per farsi conoscere in cambio di questi piccoli compiti ci viene dato un rimborso a livello di denaro o meglio a livello di token quindi ci verranno quando finirà l'airdrop quindi ogni airdrop ha una durata differente quando finirà l'airdrop vengono distribuiti a tutti gli utenti i token che potranno appunto convertirli e ritirarli e farli diventare appunto dei soldi ciao piacerebbe anche a te costruirti delle rendite extra mensili senza troppo impegno e senza avere chissà quali competenze molte altre persone l'hanno già fatto perché non lo fai anche tu? mi raccomando clicca sul link che trovi nella descrizione del video iscriviti al mio canale dedicato e vedrai tutto il percorso che sto facendo in questa associazione mi raccomando per qualsiasi cosa sono a tua disposizione ciao